Anche la Cassazione gli ha dato ragione, quindi Barusso, un dirigente, direttore generale della provincia di Pescara quando l'amministrazione è la centro-sinistra con un contratto d'oro dovrà essere risarcito almeno 1.700.000 euro. Ma chi li paga e soprattutto di chi è la colpa? Dice bene almeno perché è solamente la base, 1.700.000 dal momento che bisognerà conteggiare sul 1.700.000 anche gli interessi legali e ovviamente anche le spese legali che ai noi saranno anche abbastanza corpose perché dobbiamo pagare i nostri consulenti che ci hanno difeso strenuamente fino al terzo grado di giudizio. Di chi è la colpa? Perché Barusso è stato allontanato? La colpa è stata allontanata perché la precedente amministrazione, magari sarà brutto dirlo, ma purtroppo bisogna dirlo. Noi non c'eravamo, nel 2000 è stato fatto questo contratto faraonico nel periodo delle vacche grasse purtroppo perché prima si faceva di tutto e di più, in generale la politica, forse questa è anche la matrice della disaffezione che oggi c'è per la politica perché non si amministrava evidentemente con oculatezza, è stato fatto un contratto faraonico a un soggetto che non ha mai lavorato un giorno per poi dopo rescindere il contratto, dopo pochi giorni la firma del contratto per evidentemente motivi che non sono stati ritenuti futili e non importanti dal magistrato di primo grado, dal magistrato di secondo grado e dalla corte di Cassazione. Pantalone paga? E pantalone paga, pantalone paga e poi dopo noi siamo qui a metterci la faccia, a lavorare veramente tutti i santissimi giorni, 20 ore al giorno e magari a prenderci le critiche anche dai cittadini perché non ci stanno i soldi e perché determinate cose non si fanno. No, io a questa cosa non ci sto. E dice grazie a? Grazie alla vecchia amministrazione, io purtroppo devo parlare in maniera generica, non punto il dito con nessuno ma punto il dito contro chi ha fatto un contratto del genere indecente.